Padre, mi speriamo di stare signori, e stava a dire come ciò che la sento. Buongiorno signora, tutto pronto? Signor, tutto il tempo? Vabbè, tutto il tempo? Allora, tutto, stasera a feste a un'ina. No, no, a feste a unina, a feste a unina, a feste a un'ina. Perché non è? 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 Chiusi a verso le salle, lei stava in capace. No, la piazza da un po' strana. Poi, non è? Non è? Non deve essere mai? Non è? Non è? Tu hai una? Allora, c'è lui? Allora, l'ora, che vorrei? Sì, è stato un po' di più, 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 è stato un po' di più. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci, buona giornata.